Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite mercoledì 20 novembre 2024 e siamo qui per vedere come ogni mattina quanti V-Buck si fanno con Salva al Mondo pacchetto fondatore quindi cominciamo Allora, daily, carico giornaliero, 80 V-Buck, elimina 150 abietti con le trappole e poi abbiamo altri 75 V-Buck distribuiti in questo modo una a Vallarguta esattamente a livello 58 quindi andiamo a vedere dove si trova eccola qui a fronte a una tempesta di categoria 3 livello 58 città autunnale Vallarguta e questi sono i primi 35 gli altri 40 li troviamo a Montespago a livello 94 appena sbloccherò penso nei prossimi giorni anche Montespago vi farò vedere anche nel dettaglio quelli relativi appunto a queste mappe detto ciò passiamo allo shop giornaliero di oggi se potete supportarmi con le shoppate in modo gratuito questo è il mio codice creatore quindi abbiamo Archon 800 V-Buck poi abbiamo Zero Assoluto Assassina Artica Surfista Bracer 800 e 1200 V-Buck torna Billie Eilish 1500 V-2300 V-Bundle Balletti e Company Artigliere Bruto è uscito ieri poi abbiamo lo solito Eminem in tutte le salse mai più Marshall Rap Boy Icy Spicy in due versioni 1500 e 1500 e poi in teoria dopo Snoop Dogg dovremmo avere finalmente la 911 GT3 2800 V-Buck finalmente è uscita eccola qui il suo bundle un bel po' di colori e accessori per 2800 V-Buck cosa ne pensate? vi piace questa Porsche? fatemelo sapere nei commenti di qui sotto mi raccomando le spolliciate iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando e noi ci vediamo più tardi con la mappa creativa come al solito ogni pomeriggio per voi intorno alle 14 e poi stasera in live vi aspetto più tardi ciao ciao